Napoli, Daniele Ricciardi, una persona che dice sempre cose intelligenti e che notoriamente non è solito dire frasi senza senso. Napoli, Daniele Ricciardi, una persona notoriamente intelligente. Notoriamente intelligente. Napoli, Daniele Ricciardi, una persona scaltra e dà le idee geniali. Io infatti quando sono in caccia dal mio lavoro... Cambio espressione, aspetta. Ma non chiede io. Sì, ma tu proprio il video me lo vuoi far fare una merda. Ricominciamo. Napoli, Daniele Ricciardi, una persona notoriamente... Una persona notoriamente... Una persona notoriamente... Cercava di conquistarsi fama su YouTube, sul canale Candle Gamer, sotto il nome di Dicks. Io sono Dick. No, ma tu sei scemo, vero? Veramente non mi vuoi far ripetere tutto il video all'inizio. Scusate, sotto il nome di Dick. Io sono Dick. No, ma non stai sfottendo. Vattelo fare a qualcun altro. Non voglio averci niente a che fare. No, ma c'è un video. Per oggi... Auguri, Danny! Agüeri, Daniele. Agüeri, Daniele. Agüeri, Daniele. Agüeri, Daniele. Agüeri, Daniele. Agüeri, Daniele. Ok Dici auguri? Auguri Daniele Auguri Dix Ciao Daniele, d'angelo Ciao Dix, tanti auguri Ovviamente scherzavo Ciao Dix, tanti auguri per il tuo 125esimo Ma sta registrando in HD? Nooo Ovviamente scherzavo Ciao Dix, e tanti auguri per il tuo compleanno 18 anni, chissà cosa sono Perché io non lo so Bene, per questo Adesso tu, tu, tu Per favore, una cosa Fai per me, minorenne Tutto quello che non posso fare Bevi, fuma Poi vai in discoteca, mi raccomando Oppure semplicemente gioca a Pokémon Volevo fare un breve video di Una manciata di Secondi E dopo di questo, che dire Ciao Da Dargo Tanti auguri Dix Dix Auri Dix Voi fari un gioco con Splendor Per oggi ti abbiamo sfottuto abbastanza Sniiva